Allora, questo qua, adesso io devo farmi praticamente la tabellina degli articoli. Me ne vado praticamente qui dentro, allora c'ho praticamente, dove sto? Sto dentro stand market, no, sto dentro prodotti, dopo artita prodotti, quindi c'avrò un pin de prodotto. Allora c'ho una tabellina, li chiamiamo articoli. I campi che serve, il puntatore al prodotto, il D dell'articolo, il codice dell'articolo, la descrizione, o il titolo come la prima matica, ci mettiamo un'immagine sola e poi ci mettiamo tutta la serie di campi che ci servono. Il costo, e il costo, se non vediamo, vediamo il costo, poi dobbiamo mettere la quantità, praticamente, disponibilità è stato, volendo, ci si potrebbe anche mettere, no, vabbè no, intanto per fare questa cosa, mettiamo via. Allora, in totale sono 10 da fare, se non fanno diventare l'immagine sia grandi che piccole, sì. 10, esegui, PID prodotto, il D, articolo, e questo, lo mettiamo quello che sia l'interimento, poi ci mettiamo, ne so, l'articolo, che sarebbe il titolo, parciale, colore di marticolo, quello che pare, mettiamoci una piccola descrizione, oppure, ecco, questa potrebbe essere, una descrizione potrebbe essere, sono di quei campi in cui io ci metto praticamente qualcosa, per esempio, un team test gestisce fino a 255 caratteri, potrebbero essere sufficienti per fare una descrizione, praticamente, di un articolo. Potremmo mettere, il test, vi ricordo, che gestisce 16.000 e passa caratteri, il medium test, no, il test, scusa, 65.000, il medium test, 16.000, in quest'altro 4.000 e passa. Poi, che altro c'era da metterci, costo, quantità, cost, cioè, mettiamoci un'immagine, IMG, piccola, anzi, chiamiamola small. Questo è un pack fisico, quindi, in teoria, è un campo testo, io posso metterci tranquillamente un VARCHAR, per sicurezza ci metto 100 caratteri, sai, se uno dovesse fare delle cose un po' troppo amigliate, tipo cartella, sotto cartella, non si fanno, però. Poi c'è IMG, piccola, poi questo mettiamo un VARCHAR di 100, poi c'è, praticamente, il costo, oh, questo è il costo, il classico campo in cui si mette il decimal. Allora, noi possiamo metterci un bel decimal, che ne so, di, facciamo di 6, decimal di 6,2. Cosa sta a indicare questo 6,2? Che c'ho 6 numeri, di cui 4 interi e 2 decimal. 2 decimal ci va benissimo perché è per l'euro, quindi tranquillo. Se lo dovessimo lasciare, perché, ripeto, lo possono anche, lo vogliono cambiare, per motivi di arrotondamento, sarebbe, se vi succede, fate 7 e 3, così stare più tranquilli. E sempre 4 valori per i numeri interi, voi potete vendere prodotti che arrivano qui, che arrivano a costare 9.999 euro. E sono diventati gioielli, stai facendo, volendo, uno ci potrebbe mettere quello che volete, qui davanti, eh, qui davanti potete fare anche una cosa del tipo 10,2. Quindi con 8 cifre vendete qualcosa che costa pure qualche milione, è una cosa che potrebbe essere un bel diamante. Quello che volete, insomma, decidete voi, eh, mettiamoci 6,2. Scusate, devo fare il punto, non lo prendi, sono virgola. Virgola, perché il punto è il separatore dei decimali dentro i campi numerici. Questo invece, tu lo devi leggere questo qua, decimal, aperta, parentesi, tonda, 6,9, chiusa, parentesi, tonda. Se vai su libri così lo trovi descritto come campo. Quantità. Questa è un problema. In teoria io vendo la quantità, non è legata solamente alla quantità fisica del prodotto, ma anche al formato di come vendo il prodotto. Certo, se io vendo le attasce, non è che le vendo una per una, venderò scatole con mille attasce dentro. Se vendo un quaderno, la quantità è una, perché un quaderno è uno. Quindi qua, quantità, potrebbe anche essere che un tininte vada bene, fondamentalmente. 255, se volete proprio essere tranquilli, metteteci uno smolinte, che è arrivato a 16.000. Ma è difficile che trovate qualcosa che viene venduto a blocchi dei migliaia del busto, vengono vendute a blocchi dei 100. Poi ci stanno le confezioni. In teoria se potrebbero partire da questo punto una marea di tabelle collegate, il formato dell'articolo. Se è un formato unico, se è una scatola che contiene dentro più pezzi, se è un raccoglitore che dentro contiene più oggetti, cose di questo genere. Uno ci sono spizzati come gli pare, praticamente, in questo punto. Allora, quantità, poi abbiamo il costo, potrebbe avere l'altro, che l'hanno detto? Disponibilità pubblico. Disponibilità pubblico. Allora, disponibilità pubblico. Lo sa che invece si mette la disponibilità al pubblico per il semplice motivo che se io ho il magazzino che sono mille pezzi, però ne voglio rendere disponibili al pubblico solo 900, eccetto che li voglio tenere da parte. Quindi lui definisce un valore massimo, secondo cui, quando vai a scalare il contatore sul web, non è mai mille, ma sarà mille meno la disponibilità che è 100, quindi 900. Quando arriva a 900, dice il prodotto non è più disponibile. Perché? Perché ci sono dei prodotti che possono anche essere prenotati, volendo. E con le regole che ci stanno in diversi paesi sulle prenotazioni via web, che possono cambiare, praticamente, per la legge che è differente, c'è a disposizione sempre giorni diversi, ore diverse, 24, 48 e 72 ore, per poterli poi distribuire. Questa prenotazione, quindi conviene sempre metterla, eh? Tipicamente c'è un valore di default. Questo è il classico campo dove io ci metto un bel valore di default, eh? Uguale a zero, così non lo devo ingestirlo. E vedo, tutte le volte che inserisco un articolo detto, io automaticamente invece metto zero la disponibilità. Poi so io che decido a livello di marketing. Quanti ne voglio rendere disponibili? Nel'arrivato uno stock e le mille. Quanti ne voglio rendere disponibili per le prenotazioni? 50. Quanti ne voglio rendere disponibili a mano nel sistema del perché, e ci metto 50. Quindi la disponibilità effettiva sul web sarà la quantità meno la disponibilità al pubblico. Lo stock. Disponibilità al pubblico. E poi qui dentro mettiamo lo stato del prodotto, pure questo burleano, valore definito 1. Possiamo metterci tranquillamente, Sala. È vero, questa è una tabella minimale per quanto riguarda la gestione degli attivi. Abbiamo messo un po' con le cose proprio minime. Perché, di vero, qui non sono spizzati come gli pare. Stai giorni a progettarlo? No, in teoria ci stanno un database, cioè ci stanno libri che già sono progettati queste cose, capito? Che uno qua là se li studia, perché ci stanno degli studi sotto, non è che se fanno le cose fatte così, alla rifugia. Ci sono stati degli studi a seconda del particolare settore merceologico e il prodotto va catalogato in un modo, che tu pensi all'abbigliamento. Cioè questa camicia esiste, questa camicia è a mani penale, blu, arrechine e nere, taglia a collo 6, xl, xxl, m. Poi esiste la stessa camicia bianca, le linee rosse, stessa cosa con la taglia e cose di questo genere. e poi ci sono le confezioni, e una parte le confezioni in Fentini erano le due e tre a costo dei due. E' tutta una teoria, sono tre vetti a pallidare. Poi se in teoria uno deve pure studiare, se deve pure andare a cercare queste cose su web, bene è difficile chiedere da noi, però ci stanno dei libri che spiegano come catalogare. In quel sito l'hai ceritato? Non lo so, perché io non sito direttamente informatico, questa è più una questione merciologica questa, di marketing pure. Quello insieme è bravigliore, ma tu puoi anche trovare migliaia, mi dimenticare dei conti. infatti il mio capo ti ringrazia proprio, che mi dimenticare. Grazie a tutti. No, ma io quando l'ho scoperto, io l'inglese lo parlo malissimo, però lo leggerlo non leggo, perché i tecnici sono quelli, sono 300-400 vocaboli, incendiate leppie, il linguaggio tecnico e informale, c'è tutta questa cultura sotto. Oppure normalmente. Eh? Sì, quando non è. Allora, io mi sono fatto praticamente i miei articoli, me ne vado praticamente nel mio database e ho finito praticamente quella che è la parte, ci sto, ma com'è che fa così lento? Se ti avrà attaccato il morbo, eh? Il morbo di mecca. Il morbo di mecca. Allora, io me ne vado, no, ma perché mi avesse fatto sparire cose? Maledetto. Allora, vado così. Vediamo se riesco a farire cose che se riesce a vedere tutto quanto dentro. No, sì. Allora, io mi metto qui dentro, relazione, quindi il prodotto, quindi il prodotto. Ok. Perfetto. Quindi io fondamentalmente, in questa, guardandolo come ingresso dall'alto, posso entrare come stand, posso entrare come marca, tabella di raccordo, relazione molti a molti, e da quelli là entro nei prodotti e dentro dei vari prodotti cioè praticamente gli articoli. E questa è quella che è la parte che praticamente, in teoria, termina, termina quello che riguarda, diciamo, il magazzino. Perché poi c'è l'altra parte che poi adesso vi darò come esercizio che poi vedremo una prossima volta, che è quella che praticamente poi c'è da gestirlo praticamente. Un cliente per fa l'ordine, l'ordine è composto da più fighe, cioè quindi ci avrà un dettaglio, l'ordine è evaso, è in viaggio, è stato annullato, è stato parzialmente annullato, è stata emessa la fattura, quindi c'è ora pure la parte che riguarda la fatturazione, fondamentalmente. Noi per il flash mode l'abbiamo fatto tutta a manina, adesso già si trova qualcosa di pronto, nel senso che ci sono molti siti, soprattutto gli americani, dove le scarico proprio intere pagine, pdf, con tutte le relazioni, tutto quanto, quindi, nulla può fare, copiare a man bassa praticamente, per quanto riguarda la progettazione. Ma noi quando l'abbiamo fatto noi, nel 98 abbiamo fatto tutto a mano, sia la parte web, che la parte gestione magazzino e dovevano concordare, perché se no altrimenti, la gente poteva fare ordini su prodotti che in magazzino non c'erano, perché se eravamo sbagliati, loro le volte ci sono quelle delle quantità negative, per esempio in magazzino meno 20, o poi è possibile, o è 0, è 100, c'è qualcosa che non va dentro le progetture, meno male che abbiamo potuto fare i test. Oh, una cosa che io qui non ho messo, per esempio, che potrebbe anche essere messa in maniera semplice, in tanti cose, se il prodotto è in sconto o meno, e già ci fanno anche le offerte sotto Natale, l'Istituronis ogni tanto prende di far fuori tutto, arrivano in Mac nuovo e svende quelli vecchi con lo sconto, quindi da qualche parte qui lo sconto io ce l'odore mette, uno pensa, lo mette direttamente dentro da belli articoli, sconto 20%, cose di questo genere, in teoria si potrebbe anche andare bene l'indiettivo, mettere un campo, che ne sono un valore praticamente, anche quello decimale, basta un valore di decima al 4,2, in modo tale che tu fanno lo sconto del 99,99%, oppure anche del 5%, e praticamente il costo effettivo del prodotto, il costo effettivo del prodotto non è più quello che sta scritto là, ma sarà il costo per lo sconto. Questo è il modo semplice. Anche perché adesso c'è la tecnica di coupon? Ah, c'è quello di coupon, c'è stato, quindi acquisite i punti, tutte le volte, ma quello è più una cosa che riguarda lato cliente, cioè la parte degli ordini. Un cliente ha già fatto 20 euro, di che ne so, ha già speso in un anno 1.000 euro, io gli do uno sconto aggiuntivo, un coupon, da 300 euro da spendere, quindi quella è una cosa che io vado a pulizzo all'altro cliente. E poi una volta che ho fatto tutto quanto il carrello della spesa, vado a fare il totale, dico chi è il cliente, massimo di qua, ma c'è uno sconto del 10%, fracche, e io lo applico interamente praticamente su tutto il carrello. Quello si fa l'altro cliente. Ma invece parla tra quella perché dice il prodotto, una volta lo sconto che hai fatto a marca, magari tutti i prodotti di una marca, questo hai fatto anche a strada. Io ho detto in maniera semplice se vuoi metterli dentro. Ma se vuoi fare una tabella dove si mette l'ID al 10, al 20, al 30, a seconda di quello che hai lo puoi metti a... Devi fare una relazione molti a molti, devi fare una relazione a molti a molti. Poi qui manca un'altra cosa, l'IVA. c'è l'IVA, l'IVA per noi comuni mortali è il 22%, ma ci sono state le ipotette che non è il 22% a 10, oppure lì qui mi saranno 4. E poi anche i due altri, no? Quindi qui dentro in teoria ci dovrebbe essere ci dovrebbe essere in teoria passerebbe una relazione a una molti. Qui dovrebbe essere un puntatore che ha un campo di IVA e ci dovrebbe essere una tabellina dell'IVA con sopra scritto 4%, 10%, 20%, 22% esente da IVA cose di questo genere. Non basta solamente il... questa probabilmente forse basta se uno si accontenta e non deve scendere troppo nel dettaglio sennò c'è una relazione a molti a molti. Perché io per esempio potrei comprare un televisore che ha l'IVA al 20% però sono un disabile che ha uno sconto particolare e quindi a quel 20% poi invece va sostituito con l'altra volta il disabile cioè ci sono un po' di introi di impicci però qui normalmente una tabellina IVA è un puntatore cioè qui dentro che metto un campo dove lo mettiamo lo metto praticamente allora mettiamo sia lo sconto come lo volete mettere lo sconto direttamente dentro mettiamo lo sconto dentro e mettiamo l'IVA praticamente su una tabellina esterna allora qui dentro io che cosa faccio me ne vado dentro la tabellina innanzitutto articoli tenete presente che molte volte gli sconti vengono fatti addirittura a livello di marca la Samsung mi dice sto mese rendo tutti quanti i prodotti Samsung fai una maschera che si seleziona tutti i prodotti oppure dove sarà in qualche modo lo sconto legato anche direttamente al prodotto ripeto il modo di poter gestire queste cose non è unico ce ne stanno tanti dipende come al solito dal cliente chi è e quello che vi chiede più andate su come classe del cliente più diventa complicato questa cosa dipende appunto il fatto il cartolato sotto casa è tutto per un euro adesso stiamo cercando di capire come si fa praticamente un database che deve gestire una parte web e quindi un magazzino sotto bisogna scalare delle quantità e la parte che riguarda praticamente io la filosofia stiamo cercando di capire non di progettarlo per l'intero perché quello di volta in volta va adattato anche al tipo di vendita che tu fai quindi io qui dentro dentro articoli per esempio nel riguardo in struttura emettano praticamente dopo costo metterò uno sconto e dopo sconto metterò un puntatore all'IVA un puntatore all'IVA quindi io dopo mi andrò a creare la mia tabellina IVA intanto ci metterò il campo più in deriva dopo costo dopo costo dopo costo quindi aggiungo non un campo ma ne aggiungo due dopo costo esegui e ci metto praticamente un sconto un sconto in generale qualcosa cosa? perché può essere a volte può essere l'IVA ma con l'estero è sempre l'IVA si chiama VAT si chiama VAT in inglese si chiama VAT però è sempre quello praticamente anzi non con l'immunità per esempio adesso davanti alla partita IVA possiamo metterci anche la sigla della nazione se è il T per esempio la nostra 1171 bisogna scrivere T1171 allora questo lo sconto lo mettiamo decima pure questo bastano praticamente 4,2 quindi vuol dire che posso fare un massimo lo sconto del 99% qui in teoria che valore di default ci va? il costo effettivo del prodotto è dato dal costo per lo sconto se fai 1000 per 0 te ne è 0 ma 1 ti metto 2 dacce tra una terza media ti metto 2 dacce 1 ce ne mette 1 come valore di default ce ne mette 1 perché per default è 1 cioè tu paghi esattamente la cifra che è quindi in tutte le tue formule quando tre metti il costo metterai costo per sconto c'è 1 vuol dire che paghi il costo pieno c'è scritto che so 10% è 0,90 0,90 è un delta esatto quindi qui dentro io ci metterò praticamente come definito ci metterò 1 e poi qui dentro ci metterò il puntatore all'IVA PID-IVA PID-WAT chiamatelo come vuole fare l'importante che sapete che cosa c'è detto questo è un intero è un intero faccio salva e adesso io mi andrò praticamente questa è la tabella no dove sta tabella l'IVA la chiamiamo aliquote IVA campi ce ne mettiamo 3 il solito ID che la identificano il comandante il IVA o il D-A-LICOTA come volete voi sapete vi ho spiegato che tanto si possono chiamare anche i nomi differenti i campi le razionali l'importante è che il tipo di DAB sia quello corretto valore e questa praticamente lo mettiamo con un valore di niente che basta e avanza perché di niente è da 0,255 noi siamo al 22 se mettono un IVA al 255% succede qualcosa di brutto allora qui l'IVA io in teoria ci potrei anche mettere un valore di default pure qua mettendoci per esempio 1 quando che corrisponde al caso che è esente da IVA no? però come mi avete predito quello che avevi spesso no? eh? sì in teoria sì quello no tu quello lo decidi di default nella maschera quale fa comparire capito? e poi lo stato praticamente del del valore dell'IVA come mi pare il pureano valori default 1 ok? ciao quindi vedete andando a spreguliare poi alla fine stiamo anche simulando il fatto che state parlando col cliente gli state venendo che è il cavolo di server quindi ogni tanto tu parti da un progetto minimale parlando col cliente ti escono fuori cose nuove e lui dice no guarda dobbiamo gestire anche questo perché lui è completamente in rispetto di questa cosa però sicuramente è molto in rispetto per quanto riguarda la gestione finanziaria della sua attività quindi qui dentro ci mettiamo l'ipoteiva sta messa qua questa è una relazione del tipo 1 molti clic 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 ok e questa io praticamente c'è una cosa salvo perfetto e questo praticamente è il mio database lato lato praticamente a Fata Web ho già la scritta in questo momento Fata Web ho già la scritta che poi l'avete mai visto i dettagli della segnalazione che dice tutto qualcuno di voi sa già la scritta conosce già la scritta io l'ho sempre un pochettino odiato infatti ho iniziato a studiare framework tipo la CSG poi senza sapere già la scritta cosa si può fare io non credo quando la CSG è proprio che cosa è bella già la scritta no no non è vero già la scritta serve per farli i framework non per usarli sono librerie che ti fanno 50 librerie che fanno 50 cose devi imparare 50 cose se te basta non devi conoscere già la scritta e devi mettere a pagina ma ormai si fa praticamente quasi tutto tramite premio che c'è la scritta e non lo utilizziamo è la legge su Google e ti esce poi ok questa è la nostra praticamente sezione magazzino ma anche ciò che vedremo sul web ci sono alcuni dati che vedremo sul web altri invece che si vedranno totalmente dentro il magazzino come vedete non siamo entrati nel dettaglio di tutte le informazioni però già abbiamo costruito qualcosa che è abbastanza complesso perfetto allora adesso se vuoi io ti avviso 1.7.30 se vuoi piada per caffè no perché tu altra volta lì sì sì no perché sennò io continuo fino alle 8 sono tre vorrei capito almeno è meglio fa bilanciare le loro intervezze se no si parla per il pambucco la cosa che è il pambucco non si scarica cosa non si scarica non lo scarica ma gli altri me lo scarica ma lì hai provato sì sì adesso ho provato non me lo scarica quel file che ho messo sulla pancetta perché dal domenico non mi ha finito non ha ci parlavano di quelle protezioni quindi però lì 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 Io domenica sono andato a pillare la mia figlia a correre, facendo 19 gradi. E' calma. E' calma. Si stava meraviglia. Perché faceva quel caldo che non sudi. Però la sera poi a mezzanotte sono rientratato e c'era la nebbia. E' giustamente mentre il calore ha assorbito durante il giorno, poi si è abbassata la temperatura, stava intorno ai 10 gradi. E' una mezzanotte. La nebbia. E' una mezzanotte. Ma comunque un posto più che io ho fatto è il militare a Marto. Anzi è qui la Franca di Verona, è una plaza Lancio Missile. E' capitato l'anno in cui ha nemicato tantissimo. Io 85 e nemico pure in Sicilia, a Mondello. Sono a spiaggia. Ma non siamo a spiaggia. Ci stavano tutti i paletimitani. Hai detto il messaggio che hanno rimandato la cosa in tribunale da domani a 9. Sì sì. Ma faccio tutti. E' pure Amelia. Era Amelia. Sì. Sì. E' stata la mia situazione che c'era la nebbia e c'era la nebbia. Quindi era bianco solo e bianco giù. Se lo dà nemmeno. E poi c'era la parte serbata. Esatto. Io lo dico un po' qua. Stamme di Milano a posti. Io sono a casa di Capuzzo. Tutto la maniera. Ci sono a casa di Capuzzo. L'anno scorso. Ah ma quest'anno a Pasqua. Io ho dovuto cercare. Ho dovuto fare prima lezione perché ho fatto un po' che da Pasqua. Io sono a casa di Capuzzo. Sì sì. Ma poi molte cose. C'è caldo. C'è caldo. C'è caldo. C'è caldo.